A questo meraviglioso pubblico, la Olivet Nazareth University Tiger Marching Band And Toby Tiger Mascot, wow! Hanno con loro la mascotte, eccola qua, Toby Tiger Mascot, che apre il loro corteo, che saluta e quindi accogliamoli con un grande applauso, a big round of applause for Olivet Nazareth University! The Olivet Nazareth University Tiger Marching Band is one of the largest and most accomplished Christian marching bands in the United States, comprised of approximately 200 students from a variety of major areas of study of the campus. The band has performed in the presidential inaugural parade and New Year's Day parade in London! Eccoli che si schierano e si preparano! Welcome! Hello! E allora ogni formazione avrà un momento in questa seconda parte della sfilata per esibirsi e raccogliere il vostro applauso! Sono 108 i componenti del gruppo, 108 componenti, members of the group of Olivet Nazareth University Tiger Marching Band più Toby Tiger Mascot! Toby Tiger Mascot, wow! Ciao! 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 Grazie a tutti. Nazarene University Tiger Marching Band. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A big plus for Olivet Nazarene University Tiger Marching Band. A big plus for the Toby Tiger Mascot. Thank you very much. Grazie di aver partecipato al Romparede 2020. Hello Tiger. Bye bye. Ed eccoli che arrivano. Thank you. Thank you.